Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi farò i miei sorteggi di Europa League Qua stanno le squadre scese dalla Champions E qua stanno le squadre ovviamente che sono a finire seconde Nel girone ovviamente d'Europa League Tra cui la Roma, qua ovviamente sta la Juventus Che purtroppo è scesa in Europa League ragazzi Però senza perdere altro tempo Cominciamo subito col primo bigliettino Delle squadre ex Champions Ragazzi vediamo chi si becca Qui un bigliettino Sporting Lisbona ragazzi Sporting Lisbona Prima squadra estratta E vediamo contro chi giocherà Giocherà contro il Ren ragazzi Sporting Lisbona Ren Prima partita abbastanza interessante Comunque diciamo Peschiamo la seconda squadra Juventus ragazzi Già siamo usciti Juventus Juventus E speriamo di non prendere Manchester United ragazzi Vediamo contro chi Dovremmo giocare Un bigliettino Monaco ragazzi Juventus Monaco Monaco Diciamo che se succede questo Ci è andato abbastanza bene Ci è andato abbastanza bene Fino a Mo Sporting Lisbona E Juventus Monaco ragazzi Andiamo avanti Andiamo avanti a vedere Chi altro si becca Chi beccherà Chi beccherà la Roma Ragazzi Abbiamo il Salisburgo Ragazzi Salisburgo E il Salisburgo Giocherà Contro il Ola Salisburgo Giocherà Contro La Roma Ragazzi Salisburgo Roma E Juventus Monaco Ragazzi Salisburgo Roma E Juventus Monaco Ragazzi Andiamo avanti I torteggi Vediamo che altro si becca Il Manchester United Stai pensando Vedete che si becca Abbiamo Lo Shakhtar Donetsk Lo Shakhtar Shakhtar Donetsk Si vede bene Si Shakhtar Donetsk E giocherà Contro Il Nantes Ragazzi Shakhtar Donetsk Contro Nantes Shakhtar Donetsk Da fine ora abbiamo Sporting Lisbon Aren Juventus Monaco Salisburgo Roma E Shakhtar Donetsk Nantes Ragazzi Andiamo avanti Con la prossima squadra Vediamo Ajax Ragazzi Ajax Assolutamente Nel girone del Napoli Stava l'Ajax E scesa Come terza E vediamo Contro chi dovrà giocare Spero Ajax Manchester United Ajax Contro Midgetland Ragazzi Andrà bene anche All'Ajax Che prende il Midgetland Se finisce così Andiamo alla prossima squadra Abbiamo Il Barcellona Ragazzi Barcellona Attenzione Barcellona E ovviamente Dovrà giocare Contro Il PSV Endoven Ragazzi Giocherà contro Il PSV Endoven Barcellona PSV Endoven Bella partita Anche questa Ragazzi Abbiamo altre due squadre Per ciascuno Di Marte Prendiamo la penultima Di Europa League Scusa di Champions Abbiamo il Siviglia Ragazzi Il Siviglia E il Siviglia Giocherà Contro Il Manchester United Ragazzi Siviglia Manchester United Bella partita Anche questa Bella partita Anche questa Ragazzi Ultima squadra Di Champions Ragazzi Vediamo Ed è il Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Ragazzi Qua sta E giocherà Ovviamente Contro Il L'Union Berlin Ragazzi L'Union Berlin Conclusione Si sono così così I miei sorteggi D'Europa League Sporting Lisbon Aren Juventus Monaco Salisburgo Roma Shakhtar Donetsk Nantes Ajax Midgitland Barcellona PSV Andoven Siviglia Manchester United E Bayer Leverkusen Uno Neberino Scrivetemi nei commenti Come pensate che finisca Il sorteggio Di lunedì Ragazzi Speriamo bene che pigliamo Il Monaco Oppure che ne so Il Midgitland Oppure L'Union Berlino Ragazzi Lo United È da evitare Lo United ragazzi È da evitare Lo dico adesso Se becchiamo Lo United ragazzi Secondo me Usciamo sicuramente Usciamo sicuramente Ragazzi Speriamo bene Che finisca bene E pigliamo una squadra Come l'Union Berlino Perché veramente Lo United Non lo voglio Ragazzi Comunque Buona fortuna Anche da Roma Ragazzi Spero che passi Anche a lei Facilmente E niente Comunque Ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Sempre sono Forza Iscriviti al canale Commentare Ci vediamo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi